Il generale Mori, che arresta Riina ma non perquisisce il covo, una svista, si è dimenticato, l'ha lasciato perquisire agli uomini di Provenzano. Tutte le carte che potevamo avere noi le hanno loro. L'anno dopo, leggete il fatto di domani mattina, nel 93, si è scoperto una cosa oggi, nel 93 viene intercettato e segnalato Nito Santa Paola, il capo della mafia stragista di Catania, in una casa vicino Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Era lì latitante. Un carabiniere tutto contento avverte il generale Mori che dice me ne occupo io. Il giorno dopo, arrivano il capitano ultimo con alcuni dei suoi uomini e incredibilmente che cosa fanno? Un blitz in una casa a 50 metri da quella dove c'è Santa Paola. Non vanno nella casa giusta, vanno in quella sbagliata. Mettono tutti a ferro e a fuoco, prendono dei poveracci che non c'entrano niente, li mettono con la testa per terra, fanno un casino della Madonna con le sirene. Così nella casa di fianco ovviamente Santa Paola dalla finestra vede che è arrivata la polizia e si dà. I carabiniere hanno raccontato che si trovavano casualmente a passare in quella zona perché avevano appuntamenti di lavoro e guarda caso sono giusto passati davanti alla casa di Santa Paola a fare un po' di casino così l'hanno fatto scappare. Dopodiché nel 95, e chiudiamo il cerchio, un capo mafia, nipote di Piddu Madonia, Luigi Lardo, confida a un carabiniere che fa il suo mestiere, il Cone Loriccio, che sta per incontrare Provenzano in un casolare a Pezzo Iuso vicino a Palermo. E allora che cosa fa il Cone Loriccio? Va dal generale Mori che nel frattempo è stato premiato diventando comandante del ROS da vice che era per quel popò di risultati che ha combinato con la mancata cattura di Provenzano e facendo scappare Santa Paola, certi talenti vanno promossi, diventato il capo del ROS quindi gli dice guarda che il 30 ottobre del 95 il mio confidente Luigi Lardo, mafioso di Caltanissetta, incontra Bernardo Provenzano in quel casolare, ci appostiamo e lo prendiamo, ci penso io. fanno un servizio di osservazione a distanza si chiama, molto a distanza, talmente a distanza che Provenzano arriva, fa la riunione con gli altri, se ne va e nessuno se lo fila. Un'altra sbadataggine del generale Mori, infatti al processo ha detto che è andata come è andata e oh, non tutte le ciambelle riescono col buco, del resto dicono i suoi legali c'era anche un greggio di pecore, tra il punto di osservazione dei carabinieri e il casolare pareva brutto il rompere con un blitz che magari qualche pecora si sarebbe spaventata, sono pecore che muoiono di crepacuore per molto meno. Una botta di animalismo così, sul momento. dopo che uno ha combinato tutte quelle cazzate in un paese serio e lo degradano sulla pubblica piazza, lo mandano a dirigere il traffico in posti anche non troppo trafficati e basta, la piantiamo no? Il capo del reparto operativo speciale, non ne becchi uno nemmeno se te lo immobilizzano davanti promosso capo del Siste, capo del servizio segreto civile da Berlusconi e Ivi confermato dal centro-sinistra. Poi a un certo punto va in pensione perché per fortuna a un certo punto anche questi vanno in pensione e la finiscono di fare danni. No, dopo la pensione bisogna dargli degli incarichi, possiamo noi privarci di una professionalità di quel livello? Formigoni nomina Mori e Capitano De Donno capi dell'autority sulla sorveglianza della regolarità degli appalti di Expo 2015. Ma sembra una barzelletta, è vero. Avete visto come hanno sorvegliato? Gli hanno arrestati tutti. Expo lo fanno a San Vittore. Tra San Vittore e Opera ci sarà un padiglione nell'ora d'aria di San Vittore e uno nel carcere di Opera, sotto la sorveglianza di occhio di lince. È fantastico. Possiamo pensare a una carriera di sviste, a una carriera di scivoloni, di distrazioni, di errori. Noi cambiamo il nostro punto di osservazione, finiamola di dare la buona fede a gente che non se la merita. Partiamo dalla presunzione di mala fede per chi ci ha traditi da 30-40 anni. E capiremo meglio quello che succede e soprattutto capiremo meglio anche che cosa dobbiamo fare per migliorare le cose. Noi dobbiamo tenerli sotto osservazione questi signori. Noi, se sbagliano, dobbiamo informarci sulle origini del loro errore, perché spesse volte non è un errore, è una porcata, voluta. In questi 22 anni tutte le leggi in materia di mafia sono state porcate, volute. E ora che chi le ha fatte paghi le conseguenze.